e secondo te dove si poteva mettere Ciro? dove sono le femmine? Ciro è caldo, dove sta il vino? ecco, aspetta Michele, guarda che trio, guarda, guarda che trio eccole là, tutti a bere, guarda che trio, guarda a saluto, pare aspetta, Fositano News, Fositano News numero uno, questo è il contributo di Proloco ciao 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 vai Michele, 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 la salute del Tottuno a la salute il Red One mi servirà in più a punti per me a loro per te lo guarda, non è la giuridazione a tu